Vertice Italo-Tedesco a Meta Luglio a Verbania, Villa Taranto, arriveranno i presidenti Mattarella e Stenmeier. Sabato la presentazione della giunta a Soressi, la novità potrebbe essere la presenza di Daniele Berio in giunta. Alla vigilia della conferenza dei sindaci dell'Asla, Silvia Marchionini torna a caldeggiare il nuovo ospedale del VCO. Da ieri la Valformazza, come altre vallate alpine senza segnale media, sette spenti i ripetitori per dirottare le frequenze per altri usi. Sabato sera la chiesa di San Quirico a Domodosso l'ospita il primo concerto dell'edizione 2022 del Festival Oxilia. Thomas Signini è trionfato nella gara a 4.000 metri della traversata del Lago d'Orta di Sputatasi nel fine settimana. Una buona serata, ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale una finestra internazionale, già perché a Meta Luglio Villa Taranto torna a essere cornice di importanti vertici internazionali. La sede della prefettura Verbania ospiterà infatti il vertice italo-tedesco tra i presidenti Mattarella e Steinmeier. L'ultimo incontro importante è datato giugno 2001. Il presidente della Repubblica era Carlo Azzeglio Ciampi che presiedette il vertice di capi di Stato dell'Europa Centrale a Villa Taranto. In quell'occasione fu firmato lo statement di Verbania. Passato inosservato l'atterraggio di un elicottero questa mattina a Verbania, a bordo c'era il cerimoniale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo staff è arrivato da Roma e poi è stato visto nella zona di Villa Taranto, bocche cucite da parte delle autorità sulla visita. Da indiscrezioni si apprende che si sarebbe trattato di un sopralluogo in vista del possibile arrivo del presidente nel mese di luglio. Sarebbero infatti in programma una serie di incontri bilaterali tra il capo di Stato italiano e il collega tedesco Frank Walt Steinmeier che si dovrebbero tenere a fine luglio intorno alle 20 a Villa Taranto, sede della prefettura del VCO. Questo è il motivo del sopralluogo che sarebbe stato eseguito nei giorni scorsi anche da una delegazione tedesca. Tra i temi in agenda ci sarebbe anche la situazione internazionale. I capi di Stato dovrebbero alloggiare poi a Stresa. Il Lago Maggiore tornerebbe così a essere al centro di importanti incontri di rilevanza internazionale. Nel 2005 a Verbagna arrivò il presidente Carlo Azzeglio Ciampi con la consegna della medaglia d'oro al Valor Civile alla città, medaglia appuntata dallo stesso presidente al Gonfalone alla Casa della Resistenza di Fondo Toce. Era in piscina alesa con parenti e amici quando ha tentato un tuffo dal trampolino, imitando i campioni italiani, per un caso fortuito ha abbattuto violentemente il capo e ha perso conoscenza. È accaduto alle 16 di oggi vittima un ragazzino di 14 anni. Scattato l'allarme sono intervenuti un'ambulanza del 118, una auto medica da Gravellona e i carabinieri della locale Caserma. Il giovane avrebbe perso conoscenza prima di essere caricato sull'eliambulanza che lo ha portato per i controlli del caso al Maggiore di Novara. I militari dell'arma svolgono accertamenti per rilevare eventuali responsabilità. Ora la politica a Omenia impazza il toto assessore. Novità potrebbe essere l'entrata nella giunta Soressi di Omenia. Si cambia con Daniele Berio. L'ufficialità è attesa per sabato. Sarà presentato ufficialmente come annunciato sabato mattina, ma la giunta di Alberto Soressi è ormai stata definita. L'accordo ha acceso tutto e quindi non ci saranno sorprese. Partiamo però da quella che sarà la novità più importante. Trovo infatti sempre più conferme la notizia che l'assessore al turismo, al commercio e dallo sport sarà Daniele Berio, il candidato sindaco di Omenia Si cambia. Una svolta nel modo di fare politica è una mossa che rifatto segna un cambiamento significativo nel superamento di schieramenti ed antiche regole. Confermato che il primo nome che era stato fatto è quello di Mimma Muscatienno. Ci sarà l'esponente di Sinistra Comune. Avrà sicuramente la dedica a cultura e l'istruzione. Anche l'altro nome subito in voga, Andrea Vigano, farà parte dell'amministrazione di Centro-Sinistra. Sarà l'assessore ai lavori pubblici. L'altra donna della giunta Soressi sarà del PD, per Katia Viscardi, pronto l'assessorato alle politiche sociali. Franco Gemelli, anche lui di Omenia Riparte, uomo di fiducia del sindaco, sarà verosimilmente assessore al bilancio e dal personale per l'ufficialità. È questione di ore, ma i dubbi ormai sono stati tutti superati. È stata battezzata operazione controcorrente. Si tratta dell'indagine sul bracconaggio ittico avviata dai carabinieri forestali di Torino e Novara e scattata alle prime luci dell'alba nelle province di Novara, Varese, Milano e Ravenna. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri a sei rumeni e due italiani indagati per bracconaggio ittico e commercio di alimenti non genuini. L'indagine della Procura della Repubblica di Novara è nata a seguito di segnalazioni su pesca di frodo su corsi d'acqua del Piemonte e Lombardia ed Emilia Romagna, la base individuata a Borgo Ticino. Gli indagati utilizzavano elettrostorditori, reti ed arpioni e riuscivano a catturare quantitativi di fauna ittica che veniva trasferita in una cascina di Borgo Ticino dove il pesce veniva lavorato e depositato per la successiva commercializzazione nell'est Europa. La pesca concorrente elettrica è vietata e dannosa per l'ambiente perché causa la distruzione dell'ecosistema già in sofferenza per la carenza idrica. Il volume d'affari è stato stimato in oltre 200 mila euro all'anno. Il pesce viaggiava con documentazione falsa, le perquisizioni hanno visto impegnati oltre 40 militari. Le indagini proseguono per individuare soggetti e ditte italiane coinvolte. E ora la sanità perché venerdì pomeriggio alle 16 nella sala Ravasio del Tecnoparco sono stati convocati i sindaci i cui comuni ricadono all'interno dell'Asla VCO per discutere il documento presentato dalla regione per la riorganizzazione della sanità provinciale. Alla vigilia, Silvia Marchionini ha ribadito la posizione della sua amministrazione. Alla vigilia dell'incontro che vedrà i sindaci a confronto con la regione sul tema della sanità, lei vuole fare un attimo il punto? Riteniamo giusto, dopo aver letto le 25 pagine del documento, è arrivato tre settimane dopo la presenza di Silvio su questo territorio, capire e andare a fondo sulla proposta che viene fatta. L'atteggiamento degli amministratori è quello di essere molto concreti. Allora il documento evidenzia nei due scenari proposti con l'ipotesi sponsorizzata evidentemente al governo regionale di mantenimento dell'esistente è parecchie perplessità e criticità, con aspetti anche al limite della serietà, nel senso che si parla di 100 milioni, 200 milioni, probabilmente se vengono nuovamente in questo territorio ne diranno 300. C'è il mantenimento della situazione attuale dei due presidi chiamati del lago e della montagna, nessuno sa come vadano a prendere il personale. È vero che il problema riguarda tutto il territorio nazionale, ma questa non è una risposta. Poi l'elemento fondamentale dei due DEA, oggi la legge non lo consente, non una riga per dire come sarà possibile mantenerlo. Allora noi abbiamo condotto in questi anni una battaglia con il massimo del coinvolgimento della popolazione per una sanità di qualità a Verbania e nel VCO. Occorre che Torino prendere decisioni utili per questo territorio, perché la penalizzazione che noi stiamo subendo da molti mesi in termini di carenza di servizi, anche per fare dei banali esami e quindi ci dirigiamo all'esterno, non è più sostenibile. Questo territorio ha la dignità per vedere la scelta che è stata ritenuta valida dalla maggioranza dei sindaci e da tutti gli operatori sanitari, cioè l'ospedale nuovo, che vedrebbe un investimento importante. Peraltro scenario che in quelle 25 pagine appare come quello più completo e non un po' improvvisato. Chiudiamo la sanità con l'andamento della pandemia, dei casi Covid, continua a essere abbondantemente sopra il 20%. Il tasso di positività riscontrato nei tamponi diagnostici analizzati oggi 22,1% con 4.563 nuovi casi. Ancora in aumento i ricoverati nei reparti ordinari, più 10 è totale a 341, mentre in terapia intensiva il numero di pazienti scende a 10, meno uno rispetto a ieri, sono tre i decessi. Da mercoledì ripetitori televisivi in alcune vallate alpine sono stati spenti con pesanti disservizi alle popolazioni che vi risiedono. Un esempio è la Valle Formazza, ma nei prossimi mesi altri territori potrebbero essere interessati dallo stesso problema. Blackout dei canali Mediaset in molte vallate del Verbano Cusiossola e del resto del territorio piemontese succede dalla giornata di mercoledì. Il fermo dei ripetitori tv attraverso i quali il gruppo Lombardo irradia i suoi programmi sta causando parecchio malumore fra i residenti. Va detto che lo spegnimento del segnale rientra nel piano nazionale che prevede di destinare ad altri usi queste frequenze, una situazione che accomuna più territori, soprattutto le vallate alpine, dove il quadro potrebbe anche aggravarsi nei prossimi mesi. L'assenza di segnale non è stato un fulmine a ciel sereno. Le unioni montane da tempo lavorano alla questione una mobilitazione volta ad individuare una soluzione in grado di ridare quanto prima il servizio a chi vive nelle aree cosiddette marginali del territorio nazionale. Da due mesi gli enti montani attendono che l'ispettorato ministeriale di Torino dia l'autorizzazione ad attivare impianti alternativi. Chi vive in montagna ogni giorno deve far fronte ad un problema nuovo. Il segnale tv è solo l'ultimo in ordine di tempo. Non siamo cittadini di serie B. Pretendiamo pari diritti di chi vive in città. Il disperato grido di dolore che Bruna Papa, sindaco di Formazza, lancia all'indirizzo di chi ora deve dare il via libera alla soluzione del problema affinché vengano riattivati presto i segnali tv. Anche giugno si chiude con un deficit di pioggia in Piemonte, meno 30% in media sul territorio regionale, secondo i dati ARPA. I temporali di martedì scorso hanno ridotto l'ammanco pluviometrico annuale di soli 4 punti percentuali, da 54% a 50%. In media sul Piemonte sono caduti in 24 ore 20 millilitri di pioggia. Auxologico cresce nella nuova struttura di Meda in provincia di Monza Brianza. L'apertura è prevista alla fine dell'anno. C'è anche un po' dell'esperienza maturata a Piancavallo nel trattamento e nella cura dei disturbi alimentari. Il nuovo centro è dedicato alla riabilitazione ed è stato presentato in una serata pubblica. Un nuovo centro dedicato alla riabilitazione sarà aperto a Meda da Istituto Oxologico Italiano nelle vicinanze dell'attuale poliambulatorio specialistico. La futura struttura è stata presentata nel corso di una partecipata serata pubblica che si è tenuta nella cittadina dell'Abrianza. Si è Oxologico ampia il proprio legame con i territori e nella sede di Meda, dove è già presente con una ampia offerta diagnostica, lo sarà anche con un grosso centro riabilitativo che si propone di essere il punto di riferimento per la riabilitazione non ospedaliera di tutto il Nordbilano. L'apertura di questo centro è prevista per il mese di dicembre, ma Austologico ha in programma una serie di eventi per introdurre a questa nuova offerta sanitaria. Due eventi di natura clinico-scientifica, ma anche un appuntamento per gli sportivi, il ritorno dopo tanti anni della mezza maratona di Meda. Il 30 di ottobre Austologico promuoverà questa mezza maratona che avrà una finalità benefica, infatti il ricavato verrà destinato per l'acquisto di un mezzo per il trasporto delle persone con disabilità e verrà donato all'Avis locale. Sindaco, una presenza importante è quella di Austologico a Meda? Una presenza importantissima e adesso una ciliagina sulla torta, questo centro riabilitativo che in zona è tra i più grandi, tra i più importanti, quindi per la città di Meda è un orgoglio avere questa collaborazione con Austologico. Parola d'ordine del nuovo centro è programmi non prestazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il centro avrà un'ampia gamma di terapie disponibili e anche di strumenti diagnostici, un'enorme scelta tutta di elevata tecnologia. Ma questo non basta per curare le persone perché bisogna avere in testa un programma che coordini queste prestazioni e che le finalizzi a una chiara diagnosi di quale sia il problema che ha il paziente. Ci sarà un link importante tra noi e la riabilitazione e io credo anche con la medicina del territorio. In questi anni stiamo sviluppandola particolarmente questo rapporto. Possiamo dire che nel nuovo centro riabilitativo di Meda c'è anche un po' di piancavallo. Perché? Perché era importante trasportare un po' l'esperienza che in questi due anni stiamo maturando sulla riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare. Parliamo di un'epidemia che viene dopo la pandemia. In Italia c'è stato un aumento di incidenza di questa patologia, cioè di anoressia e bulimia, di più del 40%. Per cui per noi di Auxologico è stato importante diversificare, importante esportare sul territorio e anche sul territorio come quello della Brianza la cura degli disturbi alimentari. Diventa un'esigenza clinica ma anche un'importanza politica e sociale anche perché Auxologico ci tiene a dare la possibilità di cura a questi giovani ragazzi che soffrono di questa patologia molto complessa. Le stanze delle meraviglie a Villa Giulia a Verbani ha due gli allestimenti. Il primo è stato inaugurato ieri e sarà visitabile fino al 10 di luglio. Il secondo dal 13 al 24 di luglio. Una cinquantina gli artisti coinvolti. Una performance di danza buto, una danza giapponese interpretata da Katia Della Fonte, artista e atleta che ha partecipato ai mondiali e agli europei di sciacrobatico, ha aperto la prima tranche delle stanze delle meraviglie a Villa Giulia a Verbania. Le Wunderkammer saranno allestite fino al 10 di luglio con ingresso libero. L'iniziativa è dell'associazione Siviera con il sostegno dell'amministrazione verbanese. Gli artisti in totale sono 51-25 in questo primo periodo, di cui alcuni due o tre nel parco e gli altri nei vari piani dislocati. Ogni artista porta la sua ricerca, anche se devo dire che poi gli argomenti sono abbastanza più battuti, sono temi sociali, tema ecologico, il corpo della donna, ecco, questi per lo più, però ognuno porta il suo, quindi abbiamo della textilart, abbiamo come abbiamo visto oggi delle performance, abbiamo diversi stranieri, giapponesi, tedeschi, America Latina e Olanda, ci sono dei fiber artisti, bravissimi, anzi fiber artiste, quindi che lavorano col tessuto ma non solo, diciamo con tutto ciò che si intreccia e poi ogni stanza ha una sorpresa. Fabio Giusti con la sua arte porta anche un po' di gioco e di allegria qui a Villa Giulia, anzi una vera e propria caccia al tesoro. Il mio messaggio è quello, se gli allegri facciamo un percorso verso l'allegria. E questo è la caccia al tesoro, è un plus a questa mia installazione, ho sfruttato una prova fatta per la realizzazione dello studio e questo se lo potrà portare a casa chi riesce a trovare un biglietto nascosto nel parco di Villa Giulia. Diversi gli eventi collaterali, spettacoli teatrali, laboratori didattici, una per il libro letterario. Gli orari di apertura dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19.30, il sabato anche dalle 21 alle 23. Il secondo tempo delle Stanze delle Meraviglie con nuovi artisti sarà dal 13 al 24 di luglio. Siamo all'appuntamento del giovedì condonare per crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria del VCO. Tra i progetti culturali che la Fondazione sostiene a livello locale c'è il Festival Oxilia, un ricco cartellone di eventi al via sabato 2 luglio, un concerto in programma presso la Chiesa di San Quirico a partire dalle 21.15. Quest'anno abbiamo un programma particolarmente nutrito perché cominciamo il 2 di luglio, quindi sabato a San Quirico, come da tradizione ormai per la festa patronale della Chiesa e concludiamo il 28 di agosto. In mezzo abbiamo 21 spettacoli, concerti e aggiungiamo alcune novità. Per quanto riguarda gli spettacoli abbiamo un ospite di livello internazionale che è Mattias Martelli che renderà omaggio con uno spettacolo alla figura di Eugenio Allegri che doveva essere presente nel nostro cartellone con 900 di Alessandro Barico ma purtroppo è mancato poco tempo fa. e quindi Martelli che è uno dei suoi eredi artistici con uno spettacolo con la sua regia che è il primo miracolo di Gesù Bambino, di Dario Foy, Franca Rame e da Mistero Buffo renderà appunto omaggio alla figura di Eugenio Allegri e porterà sostanzialmente quello che è anche un upgrade nell'internazionalità di Oxilia perché veramente Martelli ha girato tutto il mondo con i suoi spettacoli ed è un onore per noi ospitarlo. Per quanto riguarda altre figure che saranno presenti sarà presente Pietro Sarubbi che è stato il barabba di Mel Gibson in The Passion e poi avremo dei ritorni come Andrea Gattinoni e Francesco Marchesi. Per quanto riguarda il programma musicale partiamo il 2 luglio con l'esecuzione di musiche degli autori ceciliani i rinnovatori della musica sacra all'inizio del Novecento in particolare sarà l'occasione per ascoltare la Missa II Pontificalis di Lorenzo Perosi poi ci saranno molte altre chicche molto interessanti e chiuderemo veramente con il botto il 28 di agosto in collegiata con l'integrale dei bande borghesi di Bach. Anche perché sono una serie di spettacoli itineranti sul territorio. Esatto, il nostro intento è quello di valorizzare tutto il territorio ovviamente il nostro centro è il Sacromonte Calvario dove il festival è nato la città di Domodossola ma ci spingiamo nelle valli come sempre abbiamo la costanza del comune di Varso che tutti gli anni accoglie la nostra proposta quest'anno raddoppiamo gli spettacoli a Varso in Val di Vedro abbiamo poi uno spettacolo a Calasca siamo con un concerto a Beura Cardezza siamo a Crevola ad Ossola a Crevola con un concerto e a Oira con uno spettacolo sul Decameron Un festival che gode dell'appoggio di chi? Abbiamo l'importantissimo appoggio delle nostre fondazioni Fondazione Paola Angelo Ruminelli e Fondazione VCO in primis di pochi giorni fa è la notizia del rinnovato sostegno di Fondazione CRT abbiamo il sostegno dei comuni di Varso, Calasca, Beura Cardezza e Crevola ad Ossola gli spettacoli sono tutti gratuiti perché noi crediamo che l'accesso alla cultura debba essere libero e quindi non abbiamo mai messo, non metteremo mai un biglietto di ingresso sui nostri spettacoli ma avremo la possibilità di donare per il festival sia in loco che tramite Paypal A Verbania continua l'estate al Teatro Maggiore un ricco cartellone di eventi che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea passando per la danza e per la prosa dopo la Mav Sinfoni Orchestra che ha ufficialmente dato il via alla stagione domenica il palco del Maggiore ospiterà la grande danza Torna il Gran Gala della Danza domenica 3 luglio alle 21 al Teatro Maggiore di Verbania con lo spettacolo Un mondo che danza della Fondazione Egri per la Danza diretta da Susanna Egri e Raffael Bianco L'ampio programma vuole rappresentare questa disciplina artistica con le sue molteplici sfaccettature i suoi stili e le sue innumerevoli dimensioni sociale, formativa, professionale e folcloristica una serata pensata non solo per gli appassionati ma anche per avvicinare nuovi pubblici a questa straordinaria arte incontriamo il territorio e i giovani anche grazie allo stagio estivo che precede questo gala e soprattutto lavoriamo con loro per condividere un momento performativo in scena con la suite dal Don Quixote rimasta sospesa a causa pandemia commenta Raffael Bianco sulla serata verbanese per la prima volta ho voluto dare un titolo Un mondo che danza per celebrare in questo spettacolo l'armonia tra i popoli in un momento di forte inquietudine internazionale in apertura di serata proprio gli estratti dal Don Quixote per la danza moderna e contemporanea nella sua dimensione ludica e giocosa sarà sul palco la compagnia Egri Bianco Danza che presenterà alcuni tra i più importanti lavori coreografici che negli ultimi anni sono stati inseriti nei cartelloni di festival e rassegne nazionali e internazionali citiamo ad esempio Beyond Water Borders un inno alla pace tra i popoli e il balletto neoclassico show ideato da Susanna Egri non potrà infine mancare il grande repertorio classico con ospiti d'eccezione Elisa Cipriani e Luca Condello danzatori storici dell'Arena di Verona che presenteranno due balletti su musiche di Tchaikovsky un passadò da lo schiaccianoci rivisitato e lo struggente a solo della morte del cigno nella sua versione originale a completare la serata per valorizzare anche gli aspetti etnici e sociali della danza la presenza di Serge Anton Kousom danzatore del Balletto Nazionale del Burkina domenica 3 luglio al campo sportivo di Bagnella il Memorial Susi il torneo di calcio a sette torna dopo due anni di stop a causa del covid come sempre l'evento avrà finalità benefica il ricavato sarà devoluto alla Lilt del VCO siamo alla decima edizione siamo a un evento molto importante quest'anno siamo arrivati alla decima edizione ci sarà tanto da vedere, da guardare perché i giocatori sono sempre importanti è sempre bello vedere di giocare ma la cosa importante è la beneficenza sosteniamo sempre la Lilt la Liga per la lotta contro i tumori ora la pagina sportiva che ci riporta a Domenia per raccontarvi della traversata che nei giorni scorsi ha portato sulle rive del Lago d'Orta qualche centinaio di nuotatori l'edizione 2022 è stata infatti caratterizzata da una buona partecipazione di atleti non ha tradito la traversata antica via del Legname disputatasi domenica all'Ido di Bagnella con l'organizzazione di Equipi Italia Omenia Nuoto e Proloco di Omenia una vera e propria festa anche per la nutrita presenza dei turisti che hanno accompagnato gli atleti provenienti da tutto il nord Italia ed anche dalla vicina Svizzera tra le distanze sulle quali si è gareggiato nei 4000 metri il successo è andato Thomas Signini nel 53 minuti 31 secondi 65 centesimi che ha preceduto Sandro Vezzani e Stefano Patruno staccati rispettivamente di 4 e 10 minuti tra le donne nella distanza più lunga ha trionfato Alessia Sana settima assoluta in un'ora 6 minuti 59 secondi 56 centesimi a completare il podio Martina Giovanni atleta Omenese e Consuelo Vicari nei 2000 metri primo Leonardo Bettoni in 28 27 63 fantastica prestazione di Miriana Imerai seconda assoluta a poco più di un minuto dal vincitore podio maschile che è stato completato da Tommaso Vismara e Tommaso Cotugno mentre tra le donne piazza d'onore per Chiara Berardinelli e bronzo per Giulia Cagliandro nella distanza più breve 750 metri primo posto per Tommaso Cotugno davanti a Giacomo Cotugno e a Stefano Patruno tra le cuffie rosa successo per Alessia Silva e poi Chiara Berardinelli e Carola Pingitore alla fine grandi applausi e complimenti per gli organizzatori pronti a tuffarsi già all'edizione 2023 ed è tutto per questa edizione del nostro giornale vcoazzurratv.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati con noi e buona continuazione di serata